Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un mezzo pesante in fiamme al km 267 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia, siamo sul versante emiliano della direttissima e code a tratti per traffico intenso e per un incidente avvenuto al km 316 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 un km di coda per un veicolo fermo al km 46 tra Montecatini Terme e Chesino Zanese in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fibili in direzione Firenze un km di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!